qualche novità di formazione attenzione intanto questa bella palla di Torregrossa per il capitano che raggiunge il fondo dalla sinistra il suo cross la deviazione provvidenziale Trizun che ora insiste dalla destra Fondrini per Casiraghi palla dentro morbida di Casiraghi attenzione provato a girarsi Enrico Bortolotto è scivolato attenzione a questo lancio intercettato di Lewandowski lotta malgrati c'è il rilancio di Boscaro attenzione alla conclusione dalla distanza da parte di Roberto Bortolotto per i compagni appostati sulla sinistra ma c'è questa buona incursione di Cattaneo che trenera di rigore la palla dietro per Tiboni il tiro di Tiboni deviato Torregrossa non c'è fuori gioco e c'è il gol di Torregrossa il Monza che passa in vantaggio la conclusione di Tiboni sporcata che si è trasformata in un assist per Torregrossa che era tutto solo un passo fuori dall'area piccola dell'attrizio buona la chiusura di Palino Valagussa che si è buttato nello spazio il capitano l'ha visto il pallo che favorisce ancora il Monza se ne va se ne va attenzione Torregrossa il pallonetto Torregrossa ma cosa hai fatto Torregrossa ma cosa hai fatto Torregrossa bravissimo nell'eludere della trappola del fuorigioco dell'attrizio palla di teso verso Roberto Bortolotto svetta Zullo di testa che però riconquista la palla il tentativo dalla distanza da parte di Possenti al ventiquattresimo solare l'irregolarità ai danni di Tiboni attenzione calciata velocemente questa punizione attenzione la porta è libera e c'è il gol e c'è il gol del Monza la papera da parte di Nodari chi ne ha approfittato è stato Valagussa Paolino Valagussa che l'ha messa e siamo sul 3 a 0 per il Monza non ci posso credere Catane opta per il servizio a Jacopino buona la palla di Jacopino per Torregrossa si libera Torregrossa il tocco per Tiboni ancora buona forza Cristian peccato buono il tocco di prima di Torregrossa per Tiboni la lavora bene Tiboni il tocco per il capitano di prima per Lewandowski a spazio Lewandowski il cross sul secondo palo ancora viva la sfera per i biancorossi il tocco dentro per Jacopino l'assist di testa per Tiboni il suo tentativo di prima intenzione non preciso ma che merita gli applausi dei tifosi biancorossi Mozz ancora in fase d'attacco libera Fondrini con un rilancio di nuovo Fondrini di testa Biso padrone del centrocampo in questo primo tempo riconquista la sfera venne chiuso Tiboni fallosamente vediamo come si svilupperà questo calcio di punizione va Jacopino la traiettora in sinistro la traversa del capitano Mozzacchè però mette la palla in fallo laterale battuta velocemente la rimessa da parte di Fondrini attenzione si libera Casiraghi la sua conclusione alta sulla traversa palla sulla destra per Fondrini attenzione a Casiraghi bravo Alessio nella chiusura ora il cross attenzione a Bortolotto che riesce a liberarsi bene serie di duelli aerei sembra avere la miglior attrezza un prova inserirsi Bortolotto la sua conclusione completamente sballata le offensive dei bianco azzurri serviamo questo calcio d'angolo la palla morbida dentro svetta un uomo del Monza la conclusione debole serve il capitano se ne va Lewandowski se ne va anche Torregrossa segnalato il fuorigioco palla che danza pericolosa la conclusione a sorpresa ci prova malgrati ribattuta anche la sua conclusione attenzione scivolato biso la palla di un'operatrizio un'altra conclusione della distanza e come al solito ci mette la sua firma ancora una volta Castelli Rizion che continua a insistere provare a rientrare in partita gli uomini di attenzione questo colpo di testa che sfiora il palo attenzione questa conclusione la palla resta lì non c'è fuorigioco il palo della trizium la parata di Castelli ma quante braccia ha Castelli ormai grati prova la conclusione dalla distanza interviene un giocatore dell'attrizium che riesce a bucare Castelli è errato questo disimpegno della difesa dell'attrizium la palla è buona per il Monza il tocco per il capitano il suo tentativo teniamo botta andiamo a prendere questo pallone attenzione alla conclusione improvvisa il lancio di biso per Tibuni non è fuorigioco entra in area il nostro numero di nove attenzione alla sua conclusione direttamente sul fondo bravo Mariano nel chiudere questo tentativo di cross c'è il contropiede andiamo andiamo con Pandiani il tiro di Pandiani è fuori peccato peccato